Amici e amici di Volumbrite, siamo qui con Claudio Arrigoni, giornalista di sport paralimpico, che è intervenuto nel convegno di Volumbrite per i dieci anni. Grazie mille di essere qui. Volevo farti alcune domande sul tuo intervento di oggi. Prima di tutto, anche richiamando l'intervento di altri ospiti, lo sport ha sempre fatto parte della storia di una nazione e della sua narrazione. Lo sport paralimpico come rientra nella storia italiana? Quali sono gli atleti che secondo te hanno dettato di più una visione anche alternativa dello sport? Lo sport paralimpico è uno sport relativamente giovane in assoluto e molto giovane per quanto riguarda l'Italia. In assoluto nasce dopo la seconda guerra mondiale, fra Inghilterra, in particolare dove è stato anche teorizzato bene, e Stati Uniti, dove invece è nato in maniera abbastanza spontanea. Ma poi è andato un po' in tutto il mondo. In Italia è dall'inizio, fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, grazie al centro linea di Ostia. Quindi, come possiamo vedere, ha una storia relativamente breve. Nel corso di questa storia però ha avuto dei grandissimi campioni anche a livello internazionale, molto importanti. Mi vengono alcuni nomi, ne diciamo due in particolare, ma ne potremmo fare tanti altri, Bebevio e Alzanardi in questo momento. Ma prima di loro Paola Fantato è stata la prima atleta in assoluto nel mondo a partecipare nello stesso anno a Olimpiade e Paralimpiade. Lei l'ha fatta nel tiro con l'Arcole, è una ragazza poliomelitica di Verona, e l'ha fatta nel tiro con l'Arcole, è un piede di Atlanta. E dall'altra parte, un'altra atleta che mi piace ricordare è Silvia Parente, che a Torino nel 2006 ha dominato nello sci alpino per atleti ciechi, ed è diventata, ed è stato per quel periodo, l'atleta cieca più importante nello sci alpino del mondo. Sono due esempi, ma ne potremmo fare tanti altri, però sono due esempi di grandi atleti italiani che sono diventati grandi anche nel mondo. A proposito di storie importanti, sono storie importanti anche quelle che portano questi atleti, oltre ad atleti, quindi persone con una loro storia, con una loro narrazione. Secondo te è importante portare anche un lato più umano della quotidianità di questi atleti? Quanto può essere importante? Secondo te cosa risulta più attraente anche sulle pagine del giornale? Sicuramente quando si parla di atleti si parla di persone e quindi si deve raccontare la storia. Credo che, parlando di sport paralimpico, questo diventi un po' più facile, perché le storie degli atleti paralimpici sono tutte molto belle, molto appassionanti, ma lo sono proprio perché partono da un loro vissuto che mostra quanto la forza che hanno, la capacità, anche l'attenzione verso l'allenamento, lo stare insieme, la possibilità di fare sport in una certa maniera, mostrano. Ecco, proprio in questo senso, mi rilascio alla tua domanda, è bello raccontare nell'interezza l'atleta e quindi la persona, e quindi anche mostrare quei lati più umani, fra virgolette, che spesso vengono un po' tralasciati per lasciare spazio all'evento puramente sportivo, quando si parla di atleti olimpici. Io credo che l'atleta paralimpico vada vissuto un po' a tutto tondo. Grazie mille per questo intervento e buona giornata.